Ciao ragazzi da Vostro Bandito, una location decisamente suggestiva per il video di oggi video importante perché pare ormai che l'accessione agli americani sia definita però io ve lo dico, sono sincero, in questo momento non mi frega un cazzo io non so come la pensate voi, ma io proprio non riesco a entrare nella logica di ragionare sulla cessione della società, ne parleremo da lunedì, avremo mille, mille argomenti di cui trattare su queste cose, sul mercato, su quello che sarà, ma non è il momento, questo lasciamo che la notizia ne prendiamo atto, ma non è il momento di, almeno io non riesco, io sono troppo focalizzato su quello che succederà tra 48 ore. Quindi le notizie mi interessano dal campo, dal campo pare che Rebic abbia la possibilità di partire titolare, io credo che alla fine parta ancora con Giroud, però a quanto pare anche talmente in condizioni smaglianti che il mister vorrebbe proporlo dal primo minuto. Domani sicuramente ne sapremo di più e per il resto l'unico dubbio è probabilmente Salameco e il Messias, ma visto come entra Messias a parita in corso penso parte ancora con Salameco. Niente ragazzi, il tempo passa, ci siamo, come vi ho detto stamattina, fiducia e trepidazione, ma niente paura. Buon ritiro ai giocatori del Sassuolo, mi raccomando stipulate con la società un premio decimo posto, così avrete ancora più stimoli e io mi auguro solo una cosa cari sassuolesi, perché succederà prima o poi, un Milan Sassuolo decisivo per mandarvi dove meritate di stare, perché il vostro posto è quello, in Serie B. Prima o poi succederà e senza neanche bisogno di fare tanti giorni di ritiro, vi ci mandiamo. Ok amico di Marotta? Carnevale, ok? Dai ragazzi che il tempo passa, forza Milan, iscrivetevi e attivate le notifiche.